Un incendio divampato nella mattinata di martedì 16 marzo intorno alle 11 alla cartiera Giacosa di fronte. A prendere fuoco alcuni bancari di carta posizionati nel cortile dell'azienda sul retro. Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino Centrale, il supporto, i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese e di Lanzo. Le operazioni per domare e spegnere le famme sono state rese difficoltose dal forte evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.